Lara Comi è la più giovane eurodeputata italiana, ha solo 29 anni, ma questo non le ha impedito di essere relatore di un importante provvedimento, quello sulla standardizzazione che l'Aula di Strasburgo ha licenziato con voto, pressoché unanime. L'abbiamo intervistata. Lara Comi, eurodeputato del Popolo delle Libertà, l'Aula di Strasburgo ha votato quasi all'unanimità la sua relazione sulla standardizzazione europea. Che cos'è la standardizzazione? Detto così sembra veramente qualcosa di extraterrestre, invece è molto concreto e molto reale. Noi dobbiamo comprendere che tutto quello che ci circonda è costruito attraverso dei cosiddetti standard, ovvero dei requisiti, partendo dalle prese di corrente, dai telefonini, dai nostri televisori, le macchine, i treni, tutto quello che ci circonda è costruito secondo degli standard. Cosa succedeva in passato? Che questi standard erano diversi da paese a paese, quindi cambiavano dall'Italia alla Francia, dalla Francia alla Germania. Quello che finalmente abbiamo votato oggi è quella un'armonizzazione, quindi avremo uno standard, quindi un requisito necessario per costruire un prodotto. Questo avviene anche per i giocattoli, avvierà anche per le nuove tecnologie, i computer. Se vediamo anche le tastiere dei computer sono tra di loro diverse, alcune hanno la tastiera QWERTY, hanno la tastiera francese, altri quella inglese. Invece ora saranno tutte finalmente uguali, proprio perché dobbiamo definirci europei a tutti gli effetti. Questa è un provvedimento, una misura che aiuterà le imprese anche a farsi concorrenza fra loro. Quali benefici ne avrà il consumatore? Innanzitutto il consumatore avrà una maggior trasparenza, una conoscenza, ma anche una consultazione. Inizialmente in questo processo così tecnico non si aveva una consultazione da parte dei consumatori. Invece abbiamo stabilito delle piattaforme nelle quali il consumatore darà la propria opinione, potrà dire non mi sento a mio agio a utilizzare questo standard, non mi sento a mio agio a avere questa presa di corrente, preferisco altre forme. Quello che è importante è che questo si trova come regolamento, quindi il regolamento è qualcosa che entra in vigore in Italia, in Francia e in Germania nello stesso modo, senza nessun tipo di modifica come invece può essere una direttiva. Pensa che anche su questo ci potrà essere qualche ritardo, qualche difficoltà, è quasi sempre piuttosto faticoso il cammino? È impossibile perché il regolamento entra in vigore il giorno dopo della pubblicazione, quindi questa secondo me è la forma legislativa utile per l'Europa. Dobbiamo smetterla con le direttive che poi hanno un ritardo nell'applicazione in ambito nazionale. Il regolamento viene approvato dal Parlamento, oggi è stato approvato con il 95% dei consensi, quindi a grandissima maggioranza ed entra automaticamente in vigore così com'è in tutta Europa. Non c'è Merkel, non c'è Monti, non c'è Sarkozy che possono dire la loro perché il Parlamento che rappresenta tutti i cittadini europei ha detto sì. Grazie a Lara Comi, eurodeputato del Popolo delle Libertà. Grazie a voi.